Vorrei, se fosse possibile, anche collegarci, se ci possiamo collegare, con la Sea-Watch, con la nave che in questo momento rega 49 esseri umani che sono condannati dall'egoismo di questo governo nazionale a restare all'arco perché non possono accedere ai porti. Da questo punto di vista noi siamo assieme all'operazione mediterranea, siamo assieme a Mariolio, siamo assieme con loro, il porto di Palermo è aperto, ministro Tomitelli, vengono di fare un po' di terra, vengono di fare un po' di terra, vengono di fare un po' nelle mani, tutti i giardini, ah, il porto di Palermo, forse che stiamo un po' così direi accogliendo. Grazie a tutti.